Ciao, mi chiamo Francesca Mulas e sono qui al Portsmouth College da settembre. Le mie materie sono Economia, Business, Matematica e Letteratura Inglese. Quello che mi piace di più in assoluto nel Portsmouth College è che possiamo scegliere le nostre materie, quindi abbiamo tanta libertà di scelta e in più possiamo usare gli iPad per ogni singola lezione, quindi è molto interattiva come lezione. Nell'Inghilterra mi piace sicuramente vivere in una città perché sono abituata a vivere in un paesino un po' piccolo, poi mi piace vivere vicino al mare, è tutto verde, il cibo non è buonissimo ovviamente, però te lo devi aspettare, e la pioggia ogni tanto è un po' così, però mi piace tantissimo. La Miosfemini è fantastica, mi trovo benissimo con loro e sono proprio contenta di questa esperienza. So, hello, my name's from Jessica Willers, I'm here at Portsmouth College since September and I'm doing Economics, Business, English, GCSE and maths, core maths. So, what I love about the college is like that we get to pick up all the subjects so we can choose what we truly want to do and then in every single lesson we use our iPad so it's really interactive and really technological and what I love about the UK is I definitely, I live near the sea so I really like that then I really like all the greenery around, I love it, I like city living because I'm used to living in a little town so it's really different and I love it and I love my host family, I get along with them so much, they have two beautiful dogs and I just love them so much. What I don't really like is probably their food but you have to get used to it, I don't mind it too much and the rain sometimes but it's not too bad, it's not too bad. So, if you want to enjoy life in the UK, come to Portsmouth College.